Buongiorno a tutti bianconeri e bianconere, ben ritrovati sul nostro canale, inizio di settimana con un altro pareggio. Ieri, ragazzi, come ho scritto anche su YouTube come post, non ho potuto fare il video perché, come vi spiego spesso, tra voi e cose varie scendi giù in Puglia, dalla famiglia, risali qui al nord e quindi non potevo per motivi logistici. Però la partita l'ho vista, la partita l'ho vista, ora ne parliamo. Come sempre, spero voi stiate tutti bene, che abbiate passato un bel weekend, però io, per iniziare la settimana nei migliori dei modi, sperando questa settimana ci porti i tre punti, vi chiedo, come sempre, di lasciare like a questo video, anche se volete a quelli passati perché fa bene, e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, cosa importante. Inoltre ci si può anche abbonare, 99 centesimi il prezzo del primo abbonamento, quindi se vi va, ragazzi, e se avete piacere anche di abbonarvi, potete farlo. Però un like è semplice. Anche iscrivervi perché dovete aiutarci a crescere. Ci aspetterà un'estate bollente, quindi fatelo. Allora, veniamo a noi, veniamo a noi. Roma-Juventus, 1-1. Assegno Romero-Lukaku e Gleison-Bremmer. Breve descrizione della partita. Un primo tempo noioso, per quanto mi riguarda, con una discreta Roma, ma discreta, niente di che, che arriva al gol, secondo me, su un errore della Juventus, dei due difensori. Danilo è cambiato, se non sbaglio, che non seguono Baldanzi, forse, e lasciano libero di grossare in mezzo per Di Bala, che poi tra ribattute varie, insomma, Lukaku la mette in porta. Facciamo fatica, dopo il gol subito, a cercare di riprenderci, più che altro, perché non vedo una reazione da parte della Juventus. Il gol del pareggio avviene da un calcio piazzato, calcio d'angolo, se non sbaglio, poi rimesso in mezzo da Chiesa, una cosa del genere. Comunque, se Bremer in aria ha fatto gol, un motivo ci sarà. Quindi c'era un calcio d'angolo o un calcio piazzato. Se non sbaglio, calcio d'angolo, ribattuta, larga di nuovo a Chiesa, Chiesa la mette in mezzo con una bella finta. Vabbè. Comunque, 1-1 arrivato con un grande stacco di testa di Bremer. Secondo tempo, secondo tempo, io direi anche una... Ho visto per dieci minuti una bella Juventus che cercava di... Cioè, bella, nel senso, comunque ha creato un bel po' di occasioni, ma il problema resta sempre quello. Non riusciamo a mettere la palla dentro neanche con le mani. Non riusciamo a fare gol. Non riusciamo a fare gol. Abbiamo avuto dei minuti, appunto, di grande dominio sulla partita, sulla Roma. La Roma non riusciva addirittura ad uscire dalla... gioco di parole. Dalla sua metà campo e purtroppo, in quei casi, lì devi ammazzare la partita e fare gol e portarti in vantaggio. Ma, come ben spesso è capitato in quei piccoli tratti della partita in cui la Juventus dominava... Dominava... Cioè, nel senso, intendo per pochi tratti di partita in cui meritava il vantaggio oppure il gol non è riuscita per l'ennesima volta a mettere la palla dentro. Quindi, io mi sentirei di dire poco servito Dusan Blaovic. Infatti, ieri non è stato autore di una grande partita, ma sugli scudi forse ha giocato più largo a sinistra senza il forse. Federico Chiesa, che è finalmente spostato lì, lo sappiamo tutti, non penso che... anche Allegri, penso, lo sappia. però l'ha spiegato anche lui, non ha intenzione, da parte che finì il campionato, di cambiare modulo ora, quindi per ovvi motivi ha dovuto iniziare... cioè, continuare questa stagione con il 3-5-2 e quindi far giocare Chiesa lì davanti insieme a Blaovic. Ma sappiamo, ripeto benissimo, che non è il suo ruolo e fa fatica, ma largo a sinistra per larghi tratti, anzi, tutta la partita prima del cambio, per me è cambio sbagliato, ci tengo a sottolinearlo, no, perché poi si dice che io difendo Allegri, no. A quanto... per chi sta vedendo i miei video, Allegri non lo sto difendendo, anche se... addirittura nell'ultima partita mi sono incazzato, cioè, gli ho dato contro nell'ultima, nella penultima, comunque ce ne sono di video in cui l'ho criticato, soprattutto nei cambi. Quindi, Chiesa, ieri autore di una grandissima partita, MVP della partita, prende quel palo su una grandissima giocata, peccato, perché meritava il gol, un gol grandioso avrebbe fatto, perché sterzata sul mancino, tiro, peccato, peccato quel palo, un po' sfortunato, un po' sfortunato. Però, poi da lì abbiamo avuto altri minuti in cui Locatelli, poi a fine, verso la fine della partita, ha avuto una grandissima occasione, ma Locatelli mi ha fatto bestemare come non mai ieri, perché obiettivamente non era un tiro difficile da fare, poteva andare benissimo sul pallone in maniera più pulita, invece lui che fa la schiaccia per terra, la prende di suola, tallone, insomma, fa fare una parata a Svillard da fotografia, niente di che. Per il resto, dopo questi minuti di fuoco della Juventus, la Roma cerca di passare in vantaggio, ma non ce la fa, non ce la fa, c'è da sottolineare il fatto di una grande parata di Scesni a fine partita su Abramo su delle cappellate, su delle cappellate difensive e di impostazione da parte della Juventus, che ieri ne ha fatte abbastanza, dei palloni persi imbarazzanti, come quello di Rabiot perso a centrocampo, verso la fine, in cui la squadra era sbilanciata, che cose, ho visto cose imbarazzanti da squadra di, senza l'onatoria, quarta categoria, terza categoria, se esiste, sempre la quarta, infatti Allegri poi è andato con gli spogliatori furibondo, l'ha detto anche all'intervista, degli errori madornali, che in una squadra di Serie A per lo più la Juventus non può e non deve mai commettere, ma così è stato. Non siamo, io, l'ho detto ieri nel gruppo dove siamo, ci siamo io e mio fratello e Simone perché è ancora vivo ragazzi, Simone è vivo, però è impegnato, per me a questa squadra serve un allenatore che deve dettare lui i tempi dei passaggi, deve dire come stoppare il pallone, ogni minima cosa la deve dettare lui. Sicuramente questo si avvicina ad Antonio Conte perché Antonio Conte telecomanda la squadra e praticamente è lui che dice dove far andare il pallone perché se ben ricordate è così Antonio Conte. Anche se io sono contro il ritorno di Antonio Conte dico sempre che sono curioso di vedere un allenatore che ha espresso un buon calcio quest'anno che ha fatto bene comunque dove si ok Spezia ok Bologna però ha fatto vedere belle cose sono curioso di vedere qualcosa di nuovo e e non di tornare sempre al passato. certo poi c'è quella postilla mia nel senso il ritorno di Morata mi piacerebbe però a parte questo chiusa questa parentesi tornando sulla partita per me ieri è stata una partita un po' più frizzantina soprattutto nel secondo tempo secondo me il pareggio è stato giusto perché qualche occasione l'ha avuta la Roma qualche occasione l'ha avuta la Juventus però avesse vinto la Juventus secondo me non c'era nulla da recriminare da parte dei tifosi della Roma però un altro pareggio quarto pareggio di fila non riusciamo aritmeticamente ancora a qualificarci a qualificarci per la prossima Champions League bastano tre punti bastano tre punti in casa contro la Serenitana speriamo di trovarli cioè se non vinciamo neanche con la Serenitana in casa che è retrocessa c'è da farsi un esame di coscienza serio perché poi una volta sperando di aver conquistata la qualificazione aritmetica per la prossima Champions League ci aspetta il 15 maggio commento un po' più sgombra la finale di Coppa Italia io comunque sia ci tengo a sottolineare che non ho notato una differenza madornale da una squadra che gioca una volta a settimana ad una squadra che ha giocato giovedì e ha speso tanto contro il Bagliere di Vercusen sta consumando tante energie anche a livello mentale perché i giocatori vengono spremuti tantissimo parlo ovviamente quelli della Roma stanno giocando sempre gli stessi sicuramente non sono al meglio Pellegrini sta giocando tanto Di Bala sta giocando tanto Lukaku tornava dell'infortunio cioè giocano sempre quelli praticamente e quindi a me questa cosa mi suscita delle domande ma ormai siamo arrivati a fine stagione quindi mancano quattro partite compresa quella di Coppa Italia vedremo cosa poi deciderà la società se ci sarà qualche comunicato anche dopo la Coppa Italia magari sempre dopo aver conquistato sta benedetta qualificazione la Champions League qualcosa magari si muoverà magari annuncia l'addio di Allegri dopo una conquista dopo la conquista questo è il trofeo della Coppa Italia questo è il mio ottimo trofeo con la Juventus ciao a tutti tutto può essere quindi ragazzi questo è quanto ci tengo comunque a sottolineare che sono contento nonostante a volte l'ho criticato della prova di Federico Chiesa spero torni in forma per la prossima stagione con un nuovo modo di giocare perché secondo me dovesse mai e dico dovesse mai restare Massimilio Allegri secondo me lui cambierà anche l'assetto in campo cioè secondo me anche lui vorrebbe giocare con le tre ponte anche perché lo abbiamo sempre visto giocare con due tre ponte o qualcosa di diverso obiettivamente su questo bisogna essere sinceri lui non ha mai giocato a tre dietro nelle interviste pure ha sempre detto in passato che anche in questi tre anni che comunque alla fine giochiamo sempre a quattro perché Gatti ogni tanto spesso sale e fa il terzino destro adattato però siamo questi non sono giustificazioni ragazzi assolutamente è un mio pensiero sul fatto che questa squadra sono pochi gli esterni puri di attacco che ha ok Ildiz alla fine se ci pensiamo più una seconda punta Chiesa è l'esterno vero e puro Kostic non è da 4-3-3 secondo il mio punto di vista ieri è entrato pessima partita sembrava avesse fatto tre partite di fila senza mai uscire per quello dico è una squadra impostata male il prossimo anno bisognerà capire in quale direzione andare su che modulo perché bisogna capire su che modulo andare e prendere i giocatori adatti per quel tipo di gioco quindi è vero che si parla sempre delle stesse robe però ragazzi mancano quattro partite facciamo questi benedetti tre punti che mancano per qualificarci sperando di vincere la Coppa Italia e poi si può programmare il futuro anche perché il giunto di ogni volta le interviste che fa giustamente dice pensiamo a qualificarci per la Champions League e vediamo sto trofeo se possiamo vincerlo meno ragazzi questo è quanto vi ringrazio per seguirci lasciare like fatelo iscrivetevi al canale fino alla fine forza Juve ci vediamo comunque in questi giorni perché tanto se ne sta sentendo parlare volevo fare un video l'altro giorno su Zirkze che per me è un nome buttato lì perché c'è Tiago Motta perché al momento obiettivamente c'hai Milik c'hai Ken c'hai Hildiz c'hai Vlaovic come fai ad andare se non vendi non prendi niente e poi per chi scrive al mio modo di vedere che Zirkze può giocare con questo modulo qua che si è detto anche Tiago Motta 4-2-3-1 dietro Vlaovic per me è una strozzata mio modo di vedere ciao ragazzi fino alla fine forza Juve seguiteci